Sono cresciuta pensando che il centro estetico era il luogo dove potevo andare a fare mani, piedi, unghie e via dicendo. Invece, vedendo l'esperienza di mia madre e frequentando sin da piccolissima il centro, ho capito che il centro estetico non è prendersi cura dell'aspetto fisico della persona, ma il centro estetico è prendersi cura del benessere della persona. E questo vuol dire prendere per mano le persone, lavorare sul benessere vuol dire valutare un corpo, studiare un corpo, lavorare per il miglioramento di quel corpo. Un miglioramento che vuol dire solo lavorare sulla cellulite o lavorare sul grasso in eccesso, lavorare sulla ritenzione idrica. Lavorare sull'inestitismo vuol dire avere a che fare con una persona che non è fatta solo di corpo, non è fatta solo di materia, ma quella materia è fatta di tante altre componenti che vanno valutate tutte quante insieme. Per me il centro estetico è un centro in cui le persone si affidano a degli specialisti che sono in grado di leggere quel corpo e di cambiarlo, di renderlo migliore e di riportare benessere e salute in quel corpo.